Allora, il pensierino della sera, Nicolás Pensierino della sera! Come siamo messi con questa festa di liberazione del 2016? La pazienza è stata un po' lenta Ma un po' lenta? Io non ho mai visto uno sprint così fantastico Allora sono le impressioni Sono le impressioni sbagliate Perché è il capitalismo che ti condiziona, che ti fa vedere male le cose Perfetto, perfetto Sono gli stupidi che non cambiano idea Esatto, qua c'è pieno di comunisti, di compagni Che lavorano dalla mattina alla sera Qua 24 ore Dove? Io non ne vedo nessuno Guarda, guarda quanti compagni, guarda Guarda il trionfo del comunismo là, guarda il soviet Qui c'è un soviet che ti segue niente A parte le battute del soviet Dicci un po' questo programma Stasera intanto chi c'è? Stasera ci sono Civillino Chico Blues Band Blues Standard Review In più ci sarà la Monica Sgheri che ci parlerà, mi ha detto lei Di sistemi globali e locali Questa cosa devo sempre capirla benissimo Va bene, dov'è la Monica Sgheri? La Monica Sgheri è la radio Ciao Salve Grazie 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 Ciao Ciao!